Musica Apriamo la pagina del calcio con il nostro capitano Gigi Lasalandra della Udati Cerignola Allora benvenuto Gigi, grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto Grazie anche al suo prezioso apporto il Cerignola è ritornato a vincere in trasferta Quanto è stata importante questa vittoria? Buonasera, è stato importantissimo perché superare questo periodo difficile in trasferta dopo sei risultati negativi è stato importante rialzarci soprattutto fuori casa perché involontariamente avevamo delle difficoltà però questo periodo spero sia passato perché era importante pure risollevare quella classifica che ormai si bloccava solo fuori casa spero di affrontare nuovi risultati positivi fuori casa e di aver superato questo periodo negativo Grazie a tutti